anche quest'anno decine e decine di cavalieri si incontreranno a san marco di castellabate per onorare la memoria di massimiliano pagano il 9 ottobre a san marco di castellabate a partire dalle ore 8 undicesimo memorial massimiliano pagano una straordinaria passeggiata a cavallo tra le colline di san marco e licosa e a seguire la santa messa in commemorazione di un grande cavaliere undicesimo memorial massimiliano pagano info iscrizioni 340 57 26 489